Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, ha fatto tappa a Pesaro questa mattina presso il Cinema Astra per portare il suo sostegno ai candidati del territorio in corsa per le amministrative per le europee. Un'occasione che Bonelli ha colto per ribadire come a Pesaro sia importante riconfermare l'amministrazione uscente e soprattutto il ruolo fondamentale che dovrà giocare l'Europa sul tema del cambiamento climatico, attaccando le destre che secondo il portavoce di Europa Verde rappresentano uno dei pericoli maggiori per le politiche ambientali. Noi siamo estremamente impegnati in questi ultimi giorni, poche settimane, verso il voto per le amministrative che deve riconfermare una buona amministrazione qui a Pesaro di un lavoro importante che è stato fatto Pesaro, città della cultura, su cui sono stati fatti importanti investimenti. Quindi l'appello è confermare una buona amministrazione dove i Verdi hanno avuto un ruolo estremamente importante anche con la nostra assessora Maria Rosa Conti. Il punto è che queste elezioni sono elezioni fondamentali perché c'è una destra aggressiva che sta mettendo in discussione i diritti civili, sociali e ambientali. La Premier Meloni si è trasformata in una imprenditrice della paura, racconta bugie per prendere risorse, risorse, voti degli italiani. In realtà la crisi climatica oggi sta mettendo in discussione il futuro delle generazioni che verranno. Mentre noi stiamo parlando ci sono alcuni comuni nel nostro paese che non hanno l'acqua potabile, è stata razionata. Domando, tutto ciò è normale? No, non è normale perché la siccità, la desertificazione sta creando grandi problemi. Il ruolo dell'Europa è fondamentale. Il punto è che in questo momento c'è un attacco forte della destra nazionalista e soranista che vuole mettere in discussione politiche sul clima. L'Italia è in prima fila in questo, purtroppo. Hanno sabotato la legge sul restauro della natura e noi abbiamo visto quello che è successo con le alluvioni. Le Marche ne sanno qualcosa, ne sa qualcosa purtroppo l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto. Insomma, quei 10 miliardi di euro dell'anno scorso, che sono i danni provocati dall'alluvione, sono danni che poi vengono sottratti alla contabilità dello Stato, ovvero sono risorse che non vengono investite ad esempio nella sanità o nel trasporto pubblico. Ecco, questa irresponsabilità di questa destra va fermata perché è un problema serio. Raccontano fake news, ne racconto una sola per essere stringato. La direttiva Casa Green dicono che sarà un modo per prendere i soldi degli italiani perché gli italiani non hanno 40-50 milo per fare la ristrutturazione. Ebbene, questa è una bugia. Qual è la bugia però? Perché non c'è nessun obbligo, non c'è nessuna sanzione da parte del proprietario di casa di dover ristrutturare la casa. Ecco, queste sono le bugie della Giorgia Meloni per prendere voti e per invece fare un favore alle grandi lobby energetiche che hanno visto aumentare gli extra profitti di decine e decine di miliardi di euro mentre le famiglie e i pensionati pagano bollette triplicate. Non vogliono la transizione ecologica perché vogliono far pagare l'energia sempre di più. Il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, si sofferma poi sul tema delle alleanze che li vedono coinvolti sul territorio della provincia. Sia Pesaro e a Urbino infatti sostengono il centrosinistra unito, a Fano invece hanno scelto di seguire la coalizione dei progressisti, distaccandosi dunque da quella guidata dai DEM. È stata una scelta che è dovuta anche un po' a una responsabilità del Partito Democratico stesso. Noi siamo sempre quelli che vogliono costruire l'unità e infatti siamo estremamente responsabili. Nel 25 settembre del 2022 era la responsabilità della vittoria alle politiche, certamente non è in capa a noi che siamo stati coloro i quali fino all'ultimo hanno tentato di far ragionare sia Calenda che Conte e Enrico Letta, non ci siamo riusciti e questo è il risultato. Dopodiché a Fano è una situazione che mi auguro qualcuno rifletta del perché siamo arrivati in quelle condizioni.